P.S. due punti come si fa quando uno scrive una lettera mercato trionfale Andrea Doria guardate si scivola si scivola anche la pavimentazione del marciapiede qui in via Andrea Doria intorno al mercato è una pista di pattinaggio o qualcuno è in società con i centri ortopedici quelli che vendono le stampelle i collarini oppure la cosa non si spiega secondo me chi ha progettato tutto questo marciapiede questa pavimentazione non ha pensato al tipo di pavimento viene valutato quando facciamo una ristrutturazione in casa ma soprattutto viene valutato quando si fanno le ristrutturazioni all'interno delle attività commerciali la possibilità di scivolare sul pavimento Caro Presidente il rischio è altissimo sia all'interno del mercato e sia fuori qui nel marciapiede antistante al mercato di via Andrea Doria